Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie di stasera e del fine settimana. Intanto da domani al 22 dicembre, bazar di Natale a favore dei gatti torinesi in corso Quintino Sella 53 a cura dell'Associazione Mondogatto. Sino a domani la 36esima edizione del Torino Film Festival. Oggi e domani deviazioni di percorso per la linea 36 Navetta Rivoli Alpignano e sino ad oggi le deviazioni di percorso per la linea urbana 1 di Nichelino e Navetta 35 Scuole, 45-45 Barrato e 99. Veniamo alle notizie di domani, sabato 1 dicembre, giornata mondiale contro l'AIDS. Prosegue al Parco della Pellerina sino al 16 dicembre e la American Circus sino all'8 gennaio al quinto padiglione di Torino Esposizioni Natale in Giostra. Sino a domani le riprese cinematografiche ai Murazzi del Po, Corso San Maurizio degli Uomini d'Oro. Domani si inaugura l'albero di Natale, anche il calendario dell'Avvento, in Piazza San Carlo e cominciano anche gli spettacoli di magia. Domani riprese cinematografiche in via Montebello, in Piazza San Carlo, sempre domani, pompieroppoli a cura dei Vigili del Fuoco che lunedì festeggiano Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco. Domenica queste le manifestazioni in programma, in Piazza Vittorio Veneto, antequariato minore, in Piazza Palazzo di Città, mercatino di campagna amica, a cura di col diretti Torino, in Piazza Carlo Felice, primo tratto di Via Roma, il libro ritrovato in Via Roma, l'associazione di paniere, in Piazza Madame Cristina, mod design, in Corso Taranto, brocante. Domenica alle 15 allo Stadio Olimpico un incontro di calcio di Serie A Torino-Geroma, per questo motivo sarà chiusa la Via Filadelfia tra le 9 e le 19.30 con la conseguente deviazione della linea 17. Dalle 10.30 di domenica, biciclettata da Via La Grange e camminata dal giardino Primo Levi. Un Babbo Natale in forma, ritorno al grande e importante appuntamento domenica, raduno dei Babbi Natale motociclisti per allietare per qualche ora i piccoli ospiti dell'ospedale, Regina Margherita. In Via Damiano Chiesa, domenica, Natale nel mondo. Domenica torna anche il grande appuntamento con i tram storici, la dodicesima edizione del Trolley Festival, dalle 10 alle 19 in Piazza Castello. Alle 10.45 posa a corona per Santa Barbara, in Corso Vittorio Emanuele, ingresso del Parco di Valentino, e in Corso Vittorio Emanuele, angolo Corso Ferrucci, alle 10.45, la Santa Messa, sempre per Santa Barbara, presso la chiesa di San Giovannino, in Corso Vittorio Emanuele 15. Nella giornata di sabato, vi ho detto che è la giornata mondiale contro l'AIDS, domenica ci sarà un'autoemoteca Avis, dalle 8 alle 20 in Piazza Castello, con la possibilità di un test HIV a risposta rapida. Per domenica sono previste deviazioni di percorso per le linee 4, 7, 17 e 42. Direi che è tutto, buon fine settimana, buon viaggio, a lunedì.